Le responsabilità sono tante e non sono affatto chiarite. Le responsabilità sono tutte da imputare al governo e a chi ha fatto la trattativa, ma sono soprattutto frutto di qualcosa che è passato inosservato ai più, ai giornali e anche all'opinione pubblica. Il passaggio dei nostri lavoratori, CAI, ex Alitalia, da un contratto di diritto pubblico ad un contratto di diritto privato. Questo fa sì che molte delle tutele previste dalle leggi non vengano applicate al contratto CAI e questo fa sì purtroppo che anche l'argomento prioritario per cui io cerco di aiutare e di sostenere la battaglia delle mamme e della CAI sia passato in secondo grado, che è l'applicazione della legge 151. Questa legge prevede la tutela delle lavoratrici madri, prevede anche la tutela dei minori e dei disabili nel momento in cui la persona che si occupa di questi altri esseri viventi abbia comunque un impegno lavorativo. Si può conciliare l'impegno lavorativo con il dovere di accudimento. Io sono convinta per il lavoro che faccio da tanti anni di una realtà dura ma purtroppo ineluttabile. Le donne sono gli unici veri ammortizzatori sociali di questo Paese. Sulle donne grava il dovere di accudimento dei figli, sulle donne grava il dovere di accudimento degli anziani, dei disabili e sulle donne grava anche, ancora di più in un periodo di crisi, il dovere di sostenere in parte la famiglia e quindi di dover anche lavorare. Allora è inutile continuare a parlare di welfare, è inutile continuare a parlare di temi sociali se non si sgravano le donne da questi doveri. Doveri che vengono fatti nella maggior parte delle volte con amore e per scelta, ma comunque sempre doveri. Se le donne continuano ad essere gli ammortizzatori sociali di questo Paese, il signor Berlusconi, il signor Brunetta e tutti gli altri continueranno a tenere sulle spalle delle donne dei gravami pazzeschi, come questo buttato sulle spalle delle mamme della CAI che peraltro rispondono adesso ad un contratto di lavoro privato, ad un datore di lavoro privato che le può tranquillamente minacciare di essere licenziate se non sottostanno a quel contratto, chiamiamolo contratto, io lo chiamerei minaccia latente, che hanno dovuto firmare nel dissociarsi da sole dalla tutela che la legge 151 prevedeva per loro. Nel momento in cui tu dici, fermo restando le leggi vigenti, però io stessa me ne sottraggo pur di lavorare, vuol dire avere comunque una bellissima divisa verde con un bellissimo fulare e sotto quel fulare un grosso cappio al collo con il quale impiccarsi nel momento in cui si chiede la tutela di una legge che vale per le altre lavoratrici delle altre compagnie, vale per le lavoratrici di tutti gli altri posti, non vale più per te, perché il signor Berlusconi ti ha messo nelle mani di un privato e quindi sottostai a queste condizioni. Ecco, su questo le responsabilità non sono chiare, su questo non si è fatta abbastanza luce, ma su questo credo che forse ci sia anche una, come dire, sottile filo per cui la politica continua a tessere una tela negativa in questo paese lasciando al privato tutto quello che prima era tutelato dal pubblico. Guardate, io credo che la mano pubblica non sia la pericolosa mano bolshevica che come nei paesi dell'est teneva in mano l'economia, in realtà la mano pubblica è una mano che tantissime volte tutela non solo chi fruisce del servizio, ma tutela il lavoratore che lo presta e tutela l'intera collettività che comunque ha un vantaggio dall'avere un servizio in parte pubblico o compartecipato. Quindi aver sottratto CAI al controllo dello Stato e del Governo io lo ritengo una responsabilità gravissima. È solo una scelta politica quello che ha dettato le regole del gioco nel passaggio tra l'Italia e CAI. Sappiamo per certo che sono i contribuenti italiani che pagano appunto 76 euro a persona dal neonato al moribondo, sappiamo che questo grava sulle tasche di tutti gli italiani ma è evidente anche per le cose che ci siamo detti prima e per chiunque abbia dato un'occhiata ai contratti di lavoro CAI che a pagare in prima linea sono sempre e comunque i lavoratori. I lavoratori CAI che sono passati attraverso un contratto capestro, che sono comunque costretti da soli, e questo credo che sia ancora più umiliante per un lavoratore, costretti da soli a delidere i loro diritti e le loro responsabilità davanti appunto a un contratto pubblico, un contratto di contrattazione collettiva che adesso purtroppo, come abbiamo detto prima, è diventato privato, io credo che sia anche questa una scelta politica. Una scelta politica di lasciare migliaia di lavoratori, tra quelli direttamente coinvolti sui voli e tutti quelli poi dell'indotto, in mano a questa cordata. Berlusconi si è lavato tanto la bocca con la bandiera italiana, una cordata tutta italiana, gli imprenditori italiani salvano l'Alitalia, peccato che quella stessa cordata guidata da Colanino e compagni ha salvato forse la bandiera italiana, ma ha affossato totalmente tutti i lavoratori sia dell'indotto che dei voli. Questo dimostra che non c'è nessun interesse di questo governo e nessun interesse dei proprietari della cordata CAI a rispettare le minime regole, che sono quelle in cui in un mercato di lavoro il primo sicuramente da tutelare è il lavoratore, poi viene la qualità del servizio, poi viene eventualmente l'accordo pubblico-privato che si salda e che si sigla per ottenere quel risultato. Ma è come, facendo una metafora anche forse troppo semplicistica, è come se io chiedessi alla Ferrari di vincere tutti i gran premi e poi gli segassi i cilindri o gli rompessi la testata. Se io non faccio lavorare nel pieno rispetto delle regole, nella loro soddisfazione, ma anche nella loro serenità, i miei lavoratori sicuramente ottengo un servizio scadente. Voglio dire anche un'altra cosa, questo è un paese in cui si getta tanto la croce sull'immigrazione e sulla clandestinità e su tutti questi invasori che vengono a rubare il lavoro agli italiani. Se noi non tuteliamo le nostre lavoratrici madri, se noi non siamo in grado di dare alle donne che lavorano quel sistema di welfare, quel sistema di coperture e di protezione per cui la donna non debba più conciliare forzatamente maternità e lavoro, noi continueremo ad avere un numero esponenziale di bambini stranieri che per fortuna vengono a nascere, a crescere, a vivere in Italia e avere una natalità sempre più bassa dei nostri bambini italiani. Immaginatevi se io ne posso fare una questione di colore della pelle, tutt'altro, però resta di fatto che le donne italiane sono sempre più strette nella scelta lavoro-maternità, sono sempre più chiuse dentro a regole che delle volte gli fanno addirittura firmare contratti in bianco che nel momento in cui annunciano che sono in gravidanza vengono immediatamente incassati. Quindi se non si risolve il nodo della maternità per le nostre lavoratrici di tutta Italia, non solo delle mamme della CAI, sicuramente questo paese non si emanciperà mai in termini di lavoro femminile. E come dice una grande donna della nostra politica italiana, che è appunto la Finocchiaro, forse è l'ora di rendersi conto che le donne sono l'unico vero bacino da cui ancora questo paese non ha pescato non solo la grandezza della loro cultura, della loro preparazione, della loro disponibilità, ma anche della loro competenza. Se ci pensate, le donne sono le più laureate in questo paese con i voti più alti in minor tempo, però se accedono sul mercato del lavoro a pari grado, nello stesso posto di lavoro, guadagnano comunque meno di un uomo. Quindi forse è l'ora di, come dire, costruire una lobby positiva, anche trasversale tra le donne della politica, dell'impresa, tra le donne del settore sociale, per far sì che tutte noi possiamo in un certo modo far sentire più forte la nostra voce, anche utilizzando delle battaglie di punta e di bandiera, come sono appunto questa relativa alla maternità delle lavoratrici CAI. Mi sembra che purtroppo in questo paese si va indietro ultimamente e non si va avanti. Quindi credo che questa che voi combattete, io vi auguro di riuscire a vincerla, sia sicuramente una battaglia che può aprire la porta a tante altre vittorie. Se le nuove relazioni industriali devono passare per un livello di flessibilità del lavoro e per un livello di mancata riconoscenza dei diritti, vadano dove devono andare. Perché se le relazioni industriali non si basano sul rispetto per le persone, sul nodo fondamentale che dovrebbe tenere insieme una civiltà, cioè il concetto di famiglia, sia essa una famiglia di diritto ecclesiastico, di diritto pubblico, sia una famiglia di fatto. Io per esempio sono una famiglia di fatto, ma credo che i miei diritti valgano lo stesso. Ecco, la politica industriale non va da nessuna parte. Prima vengono gli uomini, poi viene la politica, poi vengono gli accordi, poi viene l'industria. Ma prima di tutto i diritti umani. Prodursi in modo autonomo, svincolato e libero un materiale informativo sulle proprie battaglie dimostra non solo grande autonomia, ma dimostra anche l'autorevolezza di saper stare su un mercato difficile come quello della comunicazione, in tempi in cui la comunicazione ormai è totalmente monopolizzata. L'augurio che io posso fare alle lavoratrici della CAI è quella di essere in un certo senso la testa da riete, che sfondino una porta e che dietro ci possano andare tante altre lavoratrici. Io non mi sottrarrò dal continuare ad aiutarvi, anche se sapete che il consigliere comunale, benché autorevole o comunque importante, come può essere la Presidente della Commissione delle Lette, può poco in termini concreti. Però io credo che appunto la lobby trasversale positiva delle donne, della politica e della società civile possa unire quelle forze e quelle competenze che possono davvero arrivare lontano. Quindi l'augurio è di vincere insieme questa che non è una battaglia politica né contro il signor Berlusconi né contro i padroni della CAI. è una battaglia per dire siamo tutte mamme, siamo tutte donne, siamo tutte lavoratrici, vogliamo avere il rispetto dei nostri diritti. a tutti i padroni della CAI. a tutti i padroni della CAI. a tutti i padroni della CAI. a tutti i padroni della CAI.